Claudio Baglioni, ma come mai? Sul palco dell'Ariston, ti trasformi in Claudio Battoni Bucchino imbalsamato Ma quale direttore artistico? E tu di artistico? Tiene solo la capa di Art Attack Niente di meno che ti sei messo pure in competizione con Belen Tiene la farfalla più bella Se la farfalla ti è rimasta in canna Drizza farfalle Ma poi dico io Nel posto dei fiori? L'unico mazzo che si vede sul palco è il tuo Hai tolto i talent, hai tolto gli artisti internazionali Misa tre femmina, quarto sei tu Hai fatto quella scenografia? E per l'ingresso di una profumeria Claudio Battoni Qua presentatore Sanremo e presentatore Sanremo Cato ma paro presentatore Lavor A tutto a posto A presto A presto A presto A presto A presto